salve a tutti sono simone di stefano broker e manager dell'innovazione nei miei contributi su opinion la mia personale visione su come rinnovare il presente per abilitare il futuro uno degli elementi più interessanti affascinanti della digital transformation è il rapporto che l'uomo ha con l'intelligenza artificiale è importante distillare il concetto di intelligenza artificiale che le masse negli anni hanno costruito anche coadiuate dal mondo del cinema e della letteratura in effetti c'è un trend che porta a considerare il rapporto tra uomo e macchina un rapporto di antagonismo la verità è che in effetti dovremmo cominciare a pensare più che a sistemi di intelligenza artificiali a una sorta di intelligenza aumentata cioè la nostra intelligenza che supportata da quella delle macchine aumenta gli ambiti di conoscenza e di analisi questo è un processo che sta avvenendo e avviene tuttora ed è altamente pervasivo perché sia quando netflix ci propone un film sia quando la nostra nella nostra posta vengono selezionati degli elementi che vengono considerati spam sia quando siri percepisce e capisce il nostro linguaggio ecco in effetti le macchine stanno gestendo dati e stanno restituendo informazioni in maniera organica e funzionale ai nostri interessi quindi è importante cominciare a ragionare in termini non più di intelligenza artificiale uomo contro macchina ma intelligenza aumentata il rapporto uomo e macchina in tandem per lavorare insieme per oggi è tutto grazie al prossimo contributo